Il rigore, l'equità, lo sviluppo sono quei messaggi che il Presidente del Consiglio Monti non si stanca di lanciare agli italiani e fa bene. Sul rigore abbiamo avuto già un assaggio piuttosto consistente. Dello sviluppo attendiamo con trepidazione i primi effetti. Sull'equità dobbiamo dire che il Professor Monti non ha raggiunto la sufficienza. Gli italiani all'estero sono stati soggetti, speriamo, di un errore, di una dimenticanza. Certo è che per ora hanno subito un trattamento iniquo per quanto riguarda l'abitazione che hanno in Italia. Difatti non hanno ottenuto la detrazione dell'Imu, di quella tassa che ha preso il posto dell'Ici, di circa 200 euro. Che invece hanno avuto i cittadini italiani che stabilmente vivono in Italia. Di questo parleremo nella trasmissione, parleremo di questa iniquità, diciamo, senza enfatizzare troppo. Ma certo non è una giustizia. E parleremo soprattutto, più in generale, di equità. Lo faremo con l'onorevole Riccardo Merlo, che è dell'Udc. Con l'onorevole Gino Bucchino, del Partito Democratico. Poi ci collegheremo con Zurigo, dove c'è il direttore del settimanale La Pagina, Massimo Pillera. Ora, prima di iniziare, come è solito fare, diamo la parola a Silvia Gernini, che ci farà sapere come hanno trattato, come la stampa italiana ha pubblicato all'estero, ha trattato i principali argomenti di questi giorni. Buonasera, bentornati all'appuntamento con la rassegna stampa dei giornali italiani all'estero. E questi sono giorni caratterizzati dal cordoglio per la morte dell'ex ministro per gli italiani nel mondo Mirko Tremaglia, scomparso lo scorso 30 dicembre nella sua casa a Bergamo. Abbiamo tantissimi gli articoli dedicati al promotore della legge per il voto per corrispondenza. Tra questi leggiamo quello di Tribuna Italiana, il settimanale edito in Argentina, che titola Cordoglio tra gli italiani all'estero per la morte di Mirko Tremaglia. È la foto dell'ex ministro. E anche in Svizzera la pagina che titola Addio a Tremaglia il ministro della democrazia agli italiani nel mondo. E anche noi ci aggiungiamo al saluto all'ex ministro per gli italiani nel mondo. E cambiamo decisamente argomento parlando di Made in Italy. Ci spostiamo in Finlandia dal sito di Notizie La Rondine, che titola l'articolo Rinasce la Fenice, proprio perché in Finlandia è nata una nuova azienda per l'internazionalizzazione delle imprese in attesa della riapertura delle agenzie ICE decisa con un decreto dal governo Monti. Si chiama Italian Trade Connections. Il sito internet La Rondine, appunto con sede a Helsinki, ha intervistato uno dei soci, Luca Di Marcangelo, che spiega come a fine luglio l'ufficio ICE di Helsinki è stato chiuso a causa dei tagli previsti dalla manovra finanziaria. Ma sicuramente l'ICE era di grande aiuto agli operatori finlandesi e italiani, dice l'intervistato. Quindi l'obiettivo di questa nuova associazione è proprio quella di facilitare i legami tra le aziende italiane e finlandesi, cercando di rendere il nostro approccio il più proattivo possibile. Parteciperemo a fiere in Italia e Finlandia per farci conoscere noi in primis, ma anche per illustrare le varie opportunità che via via si presenteranno in Finlandia. Questa è la dichiarazione del socio di Italian Trade Connections. Ricordiamo inoltre che il governo Monti ha promesso iniziative sul tema dell'internazionalizzazione delle imprese. Staremo a vedere cosa succederà. È dalla promozione dell'azienda a quella della cultura, proprio dagli istituti italiani nel mondo. Andiamo a quello di Pechino, con il mensile Ciao Cultura Italiana Oriente, realizzato proprio dall'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, che dedica il numero di gennaio a un grande intellettuale italiano, Pierpaolo Pasolini. Vediamo solo la copertina, ma l'intero numero è dedicato a questo grande scrittore, regista intellettuale italiano. Passiamo da un intellettuale a un altro grandissimo italiano, Umberto Eco, intervistato da Il Lavoratore, il periodico edito in Svezia, che ha intervistato Eco in occasione della traduzione in lingua svedese del suo ultimo romanzo, Il Cimitero di Praga. Una lunga intervista rilasciata al direttore del lavoratore Guido Zecola, in cui si parla di letteratura e tendenze letterarie. In particolare si parla della fine del romanzo, del racconto. Eco risponde, ogni stagione celebra la fine del romanzo, quindi ormai non prendo più sul serio questa moda che sembra essere lì soltanto per riempire le pagine dei giornali. Il narrare è una pulsione elementare dell'essere umano. Se poi, lei vuole dirmi che in una certa epoca si raccontava in poemi in rima e poi verso il 6-700 si è cominciato a raccontare sotto la forma di romanzo, può darsi che in un prossimo futuro si racconti in un'altra forma. Ma la narratività, che è un'attività fondamentale, non cambierà mai così. Umberto Eco, chiudiamo invece con la politica. Torniamo in Svizzera per parlare del tema delle scuole, dell'insegnamento dell'italiano all'estero. Il mercoledì italiano, il settimanale edito in Svizzera, titola in pericolo l'insegnamento dell'italiano. Appello al governo Monti da parte dei docenti, degli enti gestori. Ci aspettiamo decisioni che tengano conto del nostro lavoro dal 1993 a oggi. Infatti i rappresentanti degli enti gestori, quindi gli insegnanti di italiano, denunciano che nonostante lo straordinario impegno profuso, il personale degli enti gestori risulta sottopagato rispetto ai colleghi di ruolo per lo stesso carico di lavoro ed è costretto a vivere nel precariato per un servizio voluto dallo Stato italiano. La situazione di questa categoria di insegnanti purtroppo si è aggravata negli ultimi anni a causa dei continui tagli operati dal Ministero degli Esteri che dal 2008 sono passati complessivamente da 30 milioni di euro a poco più di 6 milioni di euro per il 2012. Il problema non riguarda soltanto la Svizzera, si legge su un mercoledì italiano, ma anche la Germania, il Belgio, la Francia. Dunque è un problema che riguarda decine di migliaia di ragazzi, figli di emigrati italiani. Nella sola Svizzera hanno denunciato gli enti gestori, scompariranno nel 2012 circa 400 corsi. E con questa era l'ultima notizia, la linea torna allo studio e io vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. Ecco, però prima di iniziare anche noi vogliamo ricordare l'impegno intenso di Mirko Tremaglia, ex ministro degli italiani all'estero, che è morto recentemente. Al di là del suo credo politico, rimane indiscussa la sua decennale lotta per dare gli italiani all'estero il voto e la dignità politica e sociale che essi meritano. Onorevole Bucchino, lei ha scoperto l'iniquità di questa IMU, che ha una detrazione di 200 euro circa, poi ci spiegherà meglio lei com'è il meccanismo, e ha organizzato anche un ordine del giorno che ha impegnato il governo. Allora, ci spieghi un po' meglio quanto rischiano i nostri connazionali all'estero che hanno una casa in Italia. Sì, beh, mi permetta innanzitutto anch'io di ricordare il nostro amico Mirko Tremaglia. E' stato detto di tutto, tante cose anche in Parlamento, e ha ricevuto segnali di attenzione, di stima, di ricordo da parte di tutti. Io vorrei dire in maniera chiara, perché nessuno può smentire questo, nonostante che certamente ci divideva un abisso di idee di militanza in diversi gruppi. Però dobbiamo dire una cosa, e questo nessuno potrà mai smentirlo, se non fosse stata per la passione, per l'attività di oltre 40 anni, perché lei giustamente ha detto pluridecennale, ecco, bisogna dire che questo è pluridecennale, vuol dire più di 40 anni, oggi gli italiani all'estero non avrebbero i loro rappresentanti in Parlamento. Su questo non c'è dubbio alcuno, questo nessuno potrà. Questo è un riconoscimento. È un riconoscimento, è una verità che va detta, quindi ringraziamo e ricordiamo Tremaglia anche per questo, non solo per questo, ma anche per questo. Andando a Lici, perché adesso si chiama e si chiamerà IMU, però la sostanza è quella, l'imposta comunale sugli immobili, Lici, è più che di iniquità, direi di dimenticanza, disattenzione, e a mio parere questo è più grave, perché uno può decidere, può fare calcoli, può considerare e dire sì, ma la casa dell'italiano all'estero, l'italiano all'estero stanno bene, questa casa qua... Si possono fare tante valutazioni, stanno bene o stanno male, quello che duole veramente è che ci si dimentica che esistono gli italiani all'estero. Quando si fanno delle nuove leggi, delle nuove norme che riguardano, non si pensa che in qualche modo queste leggi avranno una ricaduta anche sugli italiani all'estero. E questa dell'Ici, quando dico noi, perché non è solamente Gino Bucchino che ha scoperto, non ha scoperto, è Gino Bucchino che sta cercando di portare avanti questa battaglia da anni insieme a tutti i colleghi in Parlamento dell'estero. Nel 1993 una legge del nostro Stato italiano ha equiparato la casa che gli italiani all'estero hanno in Italia, ha la prima casa, purché questa non affittata, non producesse come casa propria. Quindi questa è una legge dello Stato. Perché questo viene dimenticato e poi addirittura... Mi scusi, ma come un governo, poi oltretutto di tecnici, quindi lo dice la stessa parola, dovrebbero sapere tutto. A differenza di voi politici, e almeno siete ancora sotto accusa per questo. I tecnici sono lì a posta perché in teoria sono i professori. Come fanno a dimenticarsi di una cosa? Intanto come fanno a dimenticarsi di 3 milioni e mezzo di persone che comunque votano, stanno all'estero, hanno degli interessi. Stasera avevo invitato il sottosegretario Gianfranco Polillo, che è sottosegretario alle finanze e alle attività produttive. Poi non è potuto venire per questioni parlamentari, verrà nelle prossime puntate, verrà nei prossimi giorni. Proprio questo volevo chiedere a un sottosegretario di un governo tecnico. Come si fa a dimenticare? Perché effettivamente, come dice lei, è molto più grave. Certo che è più grave, perché è un modo di dire, di pensare, di agire come se l'Italia e l'estero non esistessero. Questa che viene ogni tanto ricordata come una grande risorsa, poi alla fine ci si dimentica che ci sono. È un peso, è un peso. Questo è un errore fatto, devo dire, non solamente da questo governo, parzialmente, e questo pesa anche questo, fatto anche dai precedenti governi, anche dai governi di centro-sinistra. Bisogna essere noi dall'estero, ora noi parlamentari, ma prima attraverso le espressioni organizzate delle emigrazioni riconosciute di rappresentanza e comiti sul CGE, sempre a lottare, lottare per dire ci sono anche l'italiano all'estero. Ora, io, per carità, non voglio farla lunga su questa questione, perché è una questione anche... Però, solamente due parole per dire che l'italiano all'estero con questa storia dell'ICI sono beffati due volte. Prima, perché non gli viene riconosciuto questa equiparazione che per legge era stata fatta, e se questa fosse riconosciuta, l'italiano all'estero usufrirebbero, diciamo, della detrazione dei 200 euro che viene fatta a tutti. Non solo, però poi pagherebbero solamente lo 0,4 per mille sul valore catastale. Mentre invece, non essendo riconosciuta come prima casa, dovranno pagare anche questi 200 euro... Insomma, una bella mazzatella. ...e poi dovranno pagare su un calcolo dello 0,6 per mille e non dello 0,4. Allora, onorevole Merlo, voi avete fatto un ordine del giorno, l'avete firmato. Gli ordini del giorno, noi sappiamo, quelli che vengono votati dal Parlamento non sono legge, sono, come dire, una raccomandazione forte al governo di fare determinate cose. Secondo lei, questo governo, che è molto efficiente, almeno così sembra sia, metterà a riparo, ci metterà una pezza a questo oppure bisognerà fare altre lotte? No, io credo che ancora c'è una grande confusione, soprattutto con quello che significano gli italiani all'estero. perché noi parliamo degli italiani all'estero come una risorsa, come un riconoscimento di diritti, però oggi con la crisi economica che c'è in Italia e in questo mondo globale, gli italiani all'estero sono una vera opportunità per l'Italia. Parliamo del made in Italy, del turismo, delle esportazioni, la presenza degli italiani nel mondo della politica all'estero. Cioè, poco tempo fa la moglie del Presidente del Brasile era italiana. Cioè, tutte queste cose, oggi, io dico sempre, oggi l'Italia ha più bisogno degli italiani all'estero che gli italiani all'estero dell'Italia. Il problema è che una grande parte della classe politica italiana, e io dico di tutti gli schieramenti, vedono l'italiana all'estero come se fossero una carica finanziaria per lo Stato. E questo è il grande errore. Cioè, dobbiamo cambiare il paradigma, il modello. Gli italiani all'estero oggi per l'Italia possono essere una strada per magari salvare il Paese di questa situazione economica. Ma se, ti faccio una domanda, ma se poteste fare una raccomandazione al Presidente Monti, al Presidente del Consiglio Monti, lo prende, si trova la buvette, lo acchiappa e in un orecchio queste cose come... Perché lui poi è un economista, abbiamo visto che lui aveva il nonno, non è che poi gli italiani all'estero per lui sono un'entità stratta, anzi, ce l'ha nel suo DNA. Innanzitutto c'è un grande rispetto per Monti, anche perché questo cambio era necessario. Cioè, diciamo che era l'unica cosa che si poteva fare, cioè non ce la facevamo più con il governo precedente, cioè questo lo sapevamo tutti. Magari quelli che erano nella maggioranza. No, ma anche nella maggioranza. Anche della maggioranza. Un po' alla volta si stavano sfilando un po' tutti. Però, secondo me, c'è una grande confusione anche in come uscire di questa crisi. Io vengo dell'America Latina, io ho vissuto anni di crisi economica, una crisi molto similare a questa crisi. Io dico che nel periodo di crisi come queste non si esce con una manovra di aggiustamento strutturale dell'economia. Cioè, purtroppo io aderisco a quello che diceva Keynes. Cioè, gli aggiustamenti strutturali, le austerità, si deve fare nel momento di espansione economica e non al rovescio. E purtroppo questo lo deve capire la signora Merkel. Perché la soluzione di questa situazione economica in Italia non dipende solo di Monti e degli italiani. Purtroppo dipende dell'Europa. Però ha visto Monti che dice, è andato alla Merkel e dice noi abbiamo tirato un bel po' la cinghia, adesso però tocca anche a voi. Beh, non è male, mi sembra, come impostazione politica, diciamo, generale. È necessaria ma non sufficiente, diciamo. Beh, insomma, è già una cosa. Intanto questo Presidente del Consiglio Un cambio c'è, no, no. Parli con la Merkel. Se pensiamo a tre mesi fa, questo è il paradiso. Colleghiamoci con Zurigo, dove c'è il nostro Massimo Pillera, direttore di pagina. Ecco, sentito qua che cosa abbiamo detto? Sì, 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 ho sentito molto. Allora, senti una cosa. Questa faccenda dell'Imu, questa faccenda della tassa, della detrazione, a Zurigo, in Svizzera, ci sono molti italiani, no, che vivono lì. Certo, certo. Com'è stata presa questa cosa? Hai sentito che ha detto Bucchino? Sì, 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 ho sentito. Una dimenticanza. Guardi, io ho scritto sull'argomento l'ultima volta, scomodando Camilleri, nel luglio del 2008. E lì, appunto, richiamavo all'attenzione su questo tema tutti i parlamentari, di qualsiasi schieramento. Dicevo, scomodando Camilleri, perché il titolo era ICI, ennesima pighiata più fissa, per utilizzare un gergo molto utilizzato anche da queste parti. non è vero, secondo me, che ci si dimentica dell'italiano all'estero. È vero, invece, che gli italiani all'estero sono, come sempre, la vera risorsa salva Italia e soprattutto nei momenti più drammatici e più pratici. Questo problema, questo tema, era stato affrontato anche col governo Prodi e anche lì ci fu una detrazione di 103 euro che comunque non riuscì ad essere eliminata. Qual è il problema, secondo me? Secondo me, il governo Monti, al quale io riconosco, per esempio, la novità di aver, per la prima volta, inventato le dimissioni di un ministro, di un sottosegretario. Non dimentichiamo che noi abbiamo assistito a sottosegretari, a ministri che non si dimettevano mai in nessun modo. Invece, questa volta, diciamo, queste dimissioni di Malinconico danno il segno che c'è una certa, come dire, attenzione, no? Alla forma e alla sostanza. Il governo Monti, parliamoci chiaro, cos'è? Facciamo una metafora sportiva, no? Facciamo finta che la catastrofe, la crisi economica sia una partita di hockey su ghiaccio. Sono stati chiamati dei giocatori di hockey su ghiaccio, non una squadra di calcio. Chiaro? Il punto è questo, decretano l'inefficacia del nostro Parlamento, dei nostri politici. Cioè, l'ICI, voglio dire, per un italiano all'estero, l'ICI, è una questione fondamentale. Il compianto e scomparso ministro Tremaglia aveva e ha avuto il compito di ricucire un rapporto psicologico tra gli italiani e la patria. e l'ha ricucito nel senso che col voto di italiano all'estero e con l'elezione di questi parlamentari ha ricucito questo rapporto psicologico. Cioè, quando uno emigra con la sua patria ha comunque un rapporto di lutto affettivo, no? E quindi, ovviamente, andarsi a costruire la casa nel proprio territorio d'origine è un segno, come dire, di ricucitura, è come un cordone ombelicale che si si riaggare. Questo è molto interessante quello che dice quello che dice Pillera. Cioè, questo rapporto psicologico oltre che economico naturalmente, ma insomma, è molto delicato e molto interessante. Anche perché, tenga presente, è anche questo che non viene capito dal sistema Italia perché è veramente una sciocchezza, una stupidaggine non pensare che veramente c'è questa risorsa eccezionale. Italiani che si venderebbero la mamma, voglio dire, per dire un'espressione, per poter avere e diffondere, usare i propri prodotti italiani con orgoglio nei paesi di residenza. E invece questo non viene fatto. Cioè, quindi l'Italia non pensa. Noi abbiamo 60 milioni di persone in qualche modo fuori. Non guardiamo solamente a quei 4 milioni che hanno mantenuto con orgoglio la loro cittadinanza e che vogliono partecipare. Abbiamo 60 milioni di ambasciatori nel mondo. Noi il nostro mondo da un punto di vista economico avremmo potuto conquistarcelo come vogliamo. Parlavamo della Germania velocissimamente. La Germania spende milioni attraverso i suoi programmi televisivi nel mondo. Noi spendiamo delle briciole. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è proprio un non capire quella che sta eccezionale enorme risorse. Pur avendo un marchio quello italiano che è straordinario. Esatto. E proprio lo spreco. Scusa se ti ho interrotto Pillera? Sì, sì. No, no, no. No, ma era molto interessante. Andava sottolineata questa... Sì, quello che volevo aggiungere è che quando un italiano che vive all'estero riceve una comunicazione in Italia succede un patatrac nel vero senso della parola quando arriva una lettera a casa una cartolina un qualcosa ci sono i parenti o coloro i quali prendono la posta giù che immediatamente telefonano guarda è arrivata questa cosa la cartella l'equitalia allora diciamo per uno che sta lontano lasciamo in Svizzera siamo ancora abbastanza vicini per quanto lontani nello spirito poi a volte però per quella comunicazione è lo stato che si presenta allora è chiaro che se io vedo che lo stato si presenta per chiedermi 200 euro ok quando io ho deciso di costruirmi la casa in Italia per ricucire questo rapporto e quasi sempre coloro i quali la costruiscono ricordate voi poi le modalità di costruzione o la costruiscono o la tengono che è la stessa cosa a step dei famosi anni settanta quindi quando si costruiva di step con le abitazioni ancora senza murature ancora incomplete che ci sono per esempio in certezone della Calabria o della Sicilia questo rapporto è un rapporto d'amore psicologico è chiaro che è una cartolina che ti chiede delle tasse per questa casa o viceversa la tax altro argomento molto diciamo trattato concretamente è chiaro che c'è un problema se volete vi faccio un esempio pratico di come il nostro paese non dimentica l'italiano all'estero ma non ne tiene conto riesce a valorizzare il vero senso di risorsa che questi hanno e comunque ciò non assolutamente non incide sul rapporto di amore che c'è tra l'italiano all'estero e l'Italia però lo Stato vedete vi faccio un esempio velocemente in Spagna il governo spagnolo in Svizzera manda attraverso l'ambasciata spagnola una lettera a tutti i pensionati chiedendo loro di partecipare ad un certo programma immerso un programma specifico loro sapete in cosa consiste e tutti poi i pensionati spagnoli accettano e fanno questa cosa consiste nel fatto di dare una vacanza di 15 giorni dando al pensionato solo l'onere della contribuzione di 300 euro per passare 15 giorni in Andalusia piuttosto che alle Canarie piuttosto che in altri posti ora noi adesso stiamo preparando per il fatto quotidiano proprio la nostra commissione Giannini noi adesso paragoneremo il trattamento in Europa dei vari pensionati questo rapporto tra l'ambasciata e i pensionati spagnoli qui in Italia è un rapporto straordinario perché li mandano poi a casa il biglietto aereo li garantiscono che il dottore il medico sarà 24 ore addosso a loro sapete cosa significa questo per le regioni Andalusia Canarie significa sviluppo lo hanno fatto dalla stagione 2011-2012 in piena crisi è così che si deve risolvere un problema di crisi questi pensionati molto interessante pagano 300 euro ma vanno lì molto interessante quello che ci stai dicendo quindi qui ritorniamo in istudio per dire che qui c'è proprio il povero Mirko Tremaglia ha ancora molto da battersi dall'aldilà perché come dire si è fatto qualche cosa però ci sarebbe molto ancora da fare cioè lavorare sui come dire sui cervelli ecco sui cervelli noi abbiamo cerchiamo di di tagliare queste propaggi cioè di non pensarci pensando ancora probabilmente agli italiani all'estero quelli che sono partiti sui vapori con le con le valigie insomma è il nostro provincialismo forse questo siamo ancora molto provinciali ma noi no tutti e due ditemi noi che veniamo dall'estero ma voi no non ci sentiamo affatto voi siete come dire quello che cercate siete la voce nel deserto il problema io credo sia impostare una vera politica per gli italiani all'estero per dare agli italiani all'estero tutto quello che gli italiani all'estero meritano e anche per ma perché non fate un'operazione su questo ministro nuovo che è un ministro che naturalmente ha una certa cultura e poi ha anche una professionalità è un ambasciatore dovrebbe essere sensibilissimo a queste cose perché insieme non provate a fare questa operazione culturale prima ancora che economica che ne dite direi di sì perché ha già dato prove e manifestazioni di sensibilità verso di noi perché risponde anche alle semplici lettere che le scriviamo quindi abbiamo quindi risponde da segni di vita abbiamo fiducia che possiamo fare c'è un atteggiamento diverso a quello precedente comunque c'è il tempo che c'è mancano dieci mesi e già comincia la campagna elettorale questa è la realtà noi dobbiamo anche pensare nella prossima legislatura e nei prossimi cinque anni dove sì ci deve essere una politica vera giusta e reale per gli italiani nel mondo bene abbiamo terminato anche questa puntata abbiamo come dire toccato con mano la questione una questione culturale qui manca ancora una cultura che può arricchire può portare ricchezza all'Italia solo se noi valorizzassimo non solo le ricchezze nostre ma anche quelle che stanno fuori dal nostro paese appuntamento per giovedì prossimo sempre alle 17 grazie arrivederci a a grazie a tutti